L'associazione Acquarinto ha promosso un'iniziativa importante soprattutto dal significativo valore. Ecco, portare i vostri rifugiati qui nella Valle dei Templi, culla di cultura, ma ovviamente anche come dice il nome del Tempio di Concordia. Un esempio di come l'Acquarinto vuole impartire ai ragazzi la cultura proprio di Agrigento. Ma diciamo che oggi abbiamo portato i nostri ragazzi di 14 nazionalità diverse, dunque in 14 punti del mondo vi sono situazioni di crisi. Ovviamente il significato di questa giornata vuole essere in primo luogo quello di fare conoscere ai nostri ragazzi la nostra meravigliosa città, il nostro meraviglioso parco. E in secondo luogo appunto dare anche degli spunti di riflessione su quello che è il significato di questa giornata, in special modo di fronte al Tempio della Concordia. Sono ragazzi appunto che proveniendo da queste situazioni hanno anche dei riflessi di tipo psicologico non indifferenti. Ecco, regalare loro all'interno della manifestazione della giornata mondiale del rifugiato momenti come questo può essere molto significativo anche per quanto riguarda il loro inserimento nel nostro tessuto sociale. Quest'anno noi, come già abbiamo detto più volte, abbiamo dato veramente un taglio diverso sia alla giornata mondiale del rifugiato che a tutte le attività per i nostri ragazzi. Perché proprio la conoscenza del territorio e l'apertura alle altre associazioni, comunque al territorio agrigentino, per noi quest'anno è diventato veramente la necessità prioritaria. Questi ragazzi che arrivano da tanti paesi conoscono poco agrigento e quindi veramente stanno assaporando veramente con queste visite che abbiamo organizzato per loro la vera essenza della sicilianità, dell'essere nato in questa terra, visto che loro non sono nati ma veramente sperano proprio di potersi inserire bene nel nostro territorio e soprattutto di trovare nell'agrigentino veramente una persona dal cuore grande che li possa accogliere. Mustafa, tu vieni da Baghdad. Ecco, che impressione hai avuto qui della terra di Agrigento e visitare per te oggi la Valle dei Templi? Che significato ha avuto? Veramente una cosa molto importante per noi come stranieri conoscere questa città perché noi innanzitutto viviamo in questa città. È molto importante per noi come stranieri per l'integrazione in questa società visitare tutti i monumenti storici della città per capire come la città, per sapere come la cultura italiana e grigentina anzi.